Carissimi ben ritrovati, oggi vorrei catalizzare la vostra attenzione sulla concessionaria che ha fatto la storia nel campo delle automobili. Parliamo del gruppo Gino del 1959, concessionaria Mercedes e oggi vanta ben 10 brand automobilistici più prestigiosi del mercato e 8 sedi tra Piemonte e Liguria. Oggi ci troviamo nella sede storica di Cuneo in via Torino 234 e ad accoglierci con grande piacere trovo Raffaele. Ciao! Ciao a tutti, anche la cosa più importante è che Mercedes è nata come concessione alla Mercedes e ti ringrazio di questo appoggio che mi hai dato. Infatti oggi ci focalizzeremo su quelli che sono naturalmente i nostri marchi, in prevalenza Mercedes come ben sapete, ma quelli che sono i nostri modelli. Ci sono delle belle campagne commerciali che mi auguro che possiate seguire fino alla fine e quindi che possiate avere la possibilità di venirci a trovare. Tra l'altro Gino è a Cuneo, c'è un'autostrada che ha un'uscita a Cuneo che vi porta fino a qui e poi c'è un numero di telefono che mi auguro siate vedendo in sovrappressione dove potete chiamare e chiedere di me ai miei colleghi che siamo sempre a vostra disposizione. Volevo solo dire, scusami, io sono uno che parla e a volte mi diventico anche di stopparmi, volevo solo fare un cappello introduttivo che Gino ha una new entry. La new entry qual è? Non è solo riguardo ai modelli della marca Mercedes, ma quello che è il Gino Rent. Quindi tutto quello che riguarda i noleggi per aziende e quindi tutto quello che la vostra azienda ha bisogno dalla classe A all'ML lo potete trovare alla Gino presso le nostre sedi, quindi facciamo anche la consulenza a domicilio e se volete potete naturalmente portare le vostre vetture nelle nostre officine per poter naturalmente tagliandare quindi abbinato a tutto quello che è il discorso della Mercedes noleggio. Quindi potete venirci a trovare in tutte le nostre sedi della Gino. Bene, presso la concessionaria Mercedes, hai anticipato anche tu, concessionaria Gino, non c'è solo Mercedes, grande novità, Gino Rent riguardante il noleggio ma oggi in particolare la puntata verte su quelle che sono le promozioni Gino estive, promozioni sensazionali, promozioni da non perdere. Tutte le vetture di casa Mercedes hanno già un forte impatto visivo ma sono tecnologicamente avanzate sia per quanto riguarda il design, tecnologia e sicurezza. Assolutamente sì, perché come ormai è storia Mercedes punta moltissimo la sicurezza nelle loro vetture quindi già dalla versione base di qualsiasi vettura tipo la classe A avete già tutto quello che riguarda la tension assist per i colpi di sonno, il collision, insomma avete già degli accessori che sono di serie sulle vetture. Poi volevo appunto, visto che ne approfittavo come ti dicevo sono uno che si stoppa raramente quando inizi a parlare volevo solo comunicarvi che abbiamo tutta la gamma completa qui alla Gino quindi tutte le macchine da provare assolutamente quindi perché no anche instaurare una tipica trattativa per quelle che potrebbero essere le vetture a disposizione che vi possono interessare. Anche perché guidando queste splendide vetture si può subito notare il sensazionale piacevole di guida e poi oltretutto acquistare in questo periodo una sua vettura di casa Mercedes guida Gino è vantaggiosissimo perché solo da Gino delle campagne su tanti modelli che adesso ci andrà ad elencare Raffaele. Sì, anche perché siamo qui vicino alle classi C e non è un caso che qui ci troviamo prima perché volevamo iniziare la nostra puntata di quest'oggi proprio dedicandoci a quelle che sono le vere offerte della Gino quindi parlando di classi C e qui vediamo naturalmente se è possibile una station wagon che è una macchina innovativa al massimo può essere due o quattro rotte motrici in varie motorizzazioni quindi nella versione, solo nella versione berlina abbiamo una campagna, possiamo chiamarla tranquillamente con le maniche corte visto che parliamo di luglio e agosto che noi tra l'altro vi approfitto saremo qui tutto il mese di agosto dove avete la possibilità di acquistare una classe C qualsiasi modello con uno sconto del 20% per tutti non solo focalizzato alle aziende quindi se volete una classe C è questo momento opportuno per poterla acquistare tutto il prodotto disponibile in casa è scontato del 20% sulle classi C berlina Ma vogliamo andare a scoprire anche le altre promozioni? Assolutamente, partiamo e andiamo Bene amici, parola d'ordine da Gino è sicuramente il pronta consegna in questi mesi estivi da non perdere le promozioni proprio sui pronta consegna vetture nuove con sconti fino al 20% Certo, infatti la parola d'ordine è sconto qui alla Gino ma naturalmente non dimenticate che oltre ad avere la C berlina con sconto a 20% abbiamo anche le CLA Coupé, come vedete qui abbiamo una CLA Coupé tutte le versioni disponibili in casa sono scontate del 20% Al nostro fianco per la categoria SUV, grandi e strepitose offerte anche sul GLK GLK che è stata praticamente una macchina storica della Mercedes c'erano due categorie, una della serie o ti piace o non ti piace per fortuna è stato superiore il numero a cui è piaciuta abbiamo una campagna focalizzata proprio su GLK con uno sconto del 20% a tutti voi quindi veniteci a trovare, avete la possibilità ancora di scegliere qualche modello la cosa importante è provare sempre le nostre vetture quindi quando ci venite a trovare chiedete il test drive noi saremo sempre a vostra disposizione perché fondamentalmente è il piacere di guida che dà la Mercedes, quindi il piacere di guida che dà un modello a cui voi piace e naturalmente una volta provato sono sicuro che troveremo un accordo anche per l'acquisto Gruppo Gino pensa davvero tutto, non solo modelli sul nuovo con sconti fino al 20% ma anche ampia disponibilità di chilometri zero che vi consentiranno di risparmiare notevolmente dal prezzo di listino in particolare parliamo di classe A classe A finalmente siamo riusciti a fare qualche chilometro zero so che i nostri telespettatori sono abbastanza sensibili al chilometro zero della Gino anche perché veramente ha una scontistica non indifferente infatti questa qui vedete è una classe A chilometri zero questa è una 200 però sappiate che dalla 180 gasolio siamo praticamente intorno ai 24,5-25 mila euro a partire dal chilometri zero abbiamo parlato di chilometri zero classe A ma per tutti i telespettatori amanti della classe B qui disponibile per voi un'offerta strepitosa strepitosa sì perché come vi dicevamo già prima sulla classe A avevamo qualche chilometro zero siamo riusciti a fare qualche chilometro zero anche sulla classe B siamo a partire da 25,9 il chilometro zero appunto di questa grande vettura perché è veramente innovativa come vettura perché è una telematica già di nuova generazione e quindi avete la possibilità con 25.900 euro ad acquistare una bella classe B a chilometri zero e non sono da meno naturalmente le promozioni su quella che è la parte più sportiva di Mercedes adesso parliamo di Aingeh assolutamente sì, Aingeh è un prodotto fantastico diciamo che è la macchina sportiva della Mercedes cominciamo da questa che secondo me è un vero gioiello, un capolavoro è una macchina che è un 1.9 di cilindrata, 350 cavalli, 4 ruote motrici ha dei prezzi veramente strepitosi tra l'altro per coloro che volessero anche prendere una vettura un pochettino più potente rispetto alla tradizione abbiamo anche un GLA che sarebbe il crossover della classe A a 57.000 euro con pochissimi chilometri con una versione molto più sportiva con un pacchetto night con tantissimi altri accessori che sicuramente la rendono ancora più sportiva rispetto alla tradizione tecnologia a passo duomo per tutti i modelli di casa Mercedes che come diceva Raffaele sono pronti qui per essere testati su strada soprattutto per essere acquistati ma potete acquistare non solo i modelli in pronta consegna con campagne promozionali che abbiamo appena citato sconti fino al 20% ma anche modelli che stanno per arrivare vero Raffaele? Assolutamente, ne approfitto intanto ricordandomi che c'è anche una bella campagna sulla classe B a chilometri zero non a caso ci siamo avvicinati però ricollegandomi il discorso che diceva Palma abbiamo dei nuovi SUV che saranno presto presentati stiamo parlando appunto del GLC stiamo parlando del GLE e il GLE Coupé che comunque sono già ordinabili da subito ma che da settembre comincieremo a presentare nelle nostre sedi della Gino Bene, come avrete notato presso il gruppo Gino di Cuni a Via Torino 234 lo showroom dedicato al brand Mercedes è immenso siamo in un altro reparto per parlare di un altro splendido modello un altro splendido modello, manca solo l'ombrellone io sto invidiando Palma perché lei è tutta sbracciata io sono un po' immanicata ma comunque l'importante è mettere in evidenza quella che è la campagna dell'ML l'ML che comunque è stata praticamente la storia di Mercedes perché ormai dopo 16 anni comunque continua ad essere uno dei punti di forza abbiamo un'offerta, attenzione qui dovete veramente aprire le orecchie un'offerta per le aziende, agenti di commercio e per promotori finanziari che arriva fino al 20% di sconto dal listino Un'auto per tutti, un modello per tutti ma soprattutto in questo periodo nei mesi estivi luglio e agosto da prendere al volo uno sconto per tutti privati, aziende, su tutti i modelli di casa Mercedes sconto 20%, non è da meno il modello al nostro fianco l'SLK, altro modello di punta Altro modello di punta, come ben sapete è stato appena rinnovato questo è veramente un prodotto fatto per questo periodo come ben sapete è un coupé cabrio quindi in ogni caso adatto a tutte le occasioni ma soprattutto nei periodi estivi abbiamo qualche chilometro zero, abbiamo del nuovo con cambio automatico, veniteci a trovare così scopriremo insieme il prezzo Innovazione, competenza, affidabilità ma soprattutto i migliori prezzi del mercato da non perdere in questo periodo le campagne promozionali attive solo da Gino e solo per i mesi di luglio e agosto ma abbiamo esordito all'inizio puntata parlando di una grande novità, quale? La grande novità è la Gino Rent quindi tutti i servizi di noleggio per le aziende dove naturalmente potete avere una consulenza per ciò che riguarda sia l'eventuale noleggio per una vettura naturalmente di classe Mercedes e tutto quello che riguarda anche la consulenza d'officina quindi nel caso in cui avete dei tagliandi da fare e siete abbinati a una compagna di noleggio ci auguriamo una delle nostre potete passare tranquillamente le nostre vicine a fare il vostro tagliando Bene, abbiamo parlato di campagne promozionali siamo in chiusura vogliamo un po' riassumere cosa trovare qui da Gino nei mesi di luglio e agosto sui prontoconsegna Prontoconsegna è naturalmente quasi tutta la gamma tranne che nei modelli che esordiranno come presentazione a settembre quindi parliamo di GLC il SUV della classe C parleremo di GLE che è il SUV della classe E il GLE Coupé quindi modelli che saranno presentati da settembre ma sono già ordinabili da subito come vi dicevo noi saremo qui tutto il mese di agosto si vede noi saremo qui quindi potete venireci a trovare da qualsiasi parte voi arriviate perché raggiungere la Gino è semplicissimo basta prendere la Torino-Savona uscita Cuneo alla fine della tangenziale noi siamo qui che vi aspettiamo e naturalmente se invece arrivate da Torino è praticamente il paese prima di Cuneo subito prima di rientrare in Cuneo vedete subito le nostre insegne quindi potete venireci a trovare perché no provare le nostre vetture vedere esattamente di che cosa stiamo parlando perché il prodotto Mercedes bisogna si provarlo vederlo come ad esempio questa GLE e vedere quelli che sono e che potrebbero essere le vostre campagne finanziamento personalizzate quindi ricordate che potete acquistare tutti i modelli di Mercedes anche ratealmente con assicurazione inclusa insomma tutto quello che riguardano i servizi e una classe A la potete avere con solo 199 euro al mese quindi veniteci a trovare perché troverete e proverete tutta la gamma di Mercedes per le aziende poi abbiamo addirittura delle campagne focalizzate quindi se c'è un modello di Mercedes che vi può interessare sprecate una telefonata se vedete c'è un numero di sovrappressione che potete comporre potete chiedere di me che sono Raffaele o dei miei colleghi che sono sempre a vostra disposizione vi daranno anche per telefono delle delucidazioni di cui voi avete bisogno quindi sprecate una telefonata basta una telefonata per fissare un appuntamento veniteci a trovare sicuramente troveremo un accordo su tutto quello che potrebbe essere il prodotto Mercedes che vi interessa su chilometri zero come già abbiamo parlato prima anche sul nuovo e perché no dare un'occhiata naturalmente a quelle che sono le nostre sedi che come vedete sono belle e ampie e perché no anche qualche volta ventilate quindi se volete passare magari anche 5 minuti 20 minuti al fresco venite a vedere la gamma Mercedes qui da noi vi ricordo aperti tutto il mese di agosto io ringrazio Raffaele per la sua simpatia e l'ospitalità io ringrazio voi ringrazio voi che ci verrete a trovare e ci auguriamo ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare e di vedere i nostri prodotti ma vedere come ben sapete anche l'occhio vuole la sua parte quindi abbiamo veramente una vasta gamma di prodotti da farvi vedere perché no come vi dicevo anche da farci provare grazie a tutti voi alla settimana prossima quando sarà noi saremo ancora una volta qui Gruppo Gino via Torino 234 Cuneo io vi saluto vi do appuntamento alla prossima e se avete piacere scaricate l'app gratuita di Motori TV per rimanere sempre aggiornati sui vostri concessionari di fiducia grazie grazie